Bentornati in un nuovo video dedicato a Infinity Magic Ride e buon inizio settimana Come ogni lunedì ci viene proposto il calendario degli eventi di questa settimana e in più il banner Tra gli eventi particolari abbiamo la partita trio questa settimana e ritorna l'arena di Gilda Oltre in più a tutti gli altri eventi classici e magari come sempre vi metto a schermo gli eventi di questa settimana Tornando dietro una settimana fa mi sarebbe piaciuto fare il video nel quale vi anticipavo che questa settimana Ci sarebbe stato uno tra Zuccante, Sun Wukong e Beatrix nel banner di questo venerdì Cosa che non è purtroppo successa perché nel reset con le icone ci è stato riproposto Pauline Una volta che Pauline era messo qui significava solo una cosa che questa settimana avremmo avuto Pauline presente nel banner Ho sperato fino all'ultimo che potesse succedere qualcosa di strano Purtroppo non è successo Riproposto Pauline dopo che era stato anche proposto nel mese di gennaio sempre con la partita trio Onestamente non capisco questa loro scelta Quindi Pauline ce l'abbiamo anche nella partita trio Una volta raggiunti i 9000 punti e per raggiungere i 9000 punti Come sempre dobbiamo acquistare sicuramente il pacchetto grosso Quello da 100 dollari che sta qui Questo qua sicuramente e molto probabilmente dovremmo anche andare ad acquistare i due pacchettini In questa schermata da 15 dollari e in più il pacchettino da 1 dollaro Ovviamente oltre ad acquistare Pauline Soprattutto con la partita trio andremo a mettere da parte anche un gran numero di rune supreme Quindi acquistiamo sì Pauline però possiamo mettere da parte altre gialle o viole qui all'inizio Per tentare la fortuna e pullarne un'altra copia durante il weekend Questa ovviamente è una scelta che aspetta a voi Se voler o meno investire tra mille virgolette 100 e più dollari Tornando al banner come detto quindi abbiamo Pauline Oltre a Pauline abbiamo Space Asindo che principalmente si usano in Arena E poi abbiamo Eatur e Fridge che invece sono più eroi da fazione Per quanto riguarda Pauline però vi voglio ricordare una cosa Che nel mercato attraverso il negozio dei diamanti arcobaleno Noi abbiamo il forziere con al suo interno la possibilità di prendere Pauline Quindi se avete tanta pazienza io direi di non investire i 100 dollari Per acquistare una copia di Pauline Ma vi consiglierei di pazientare un pochettino E giocando tranquillamente le copie di questi quattro personaggi Li potete prendere da qua È un processo molto lungo Però è una cosa che mi sento di consigliarvi a dirla tutta Io ad esempio Questo weekend Da una parte vorrei tentare la fortuna Per prendere qualche copia in più di Pauline Però dall'altra è anche vero che comunque il banner non è che mi entusiasmi così tanto Quindi sono in una via di mezzo per quanto riguarda la mia situazione Anche perché io Pauline ce l'ho esclusivo 1 Anzi io Pauline ce l'ho esclusivo 0 E iniziare a mettergli qualche esclusivo non sarebbe male Anche perché io in questo momento nel negozio dei diamanti mi sto concentrando in più di più su Esther Detto questo vi auguro un grosso in bocca al lupo Per colori quali vorranno aprire durante questo weekend Spero che possiate fare esclusivo 3 il vostro Pauline Se avete già una copia oppure vi auguro di trovare la prima copia O meglio ancora le prime copie Vi saluto Ci vediamo tra giovedì e mercoledì con la discussione della patch note E ancora buon inizio settimana a tutti